Ciao, sei un operatore olistico, coach, naturopata o conosci qualche operatore del benessere? Se la risposta è sì, continua ad ascoltare, non te ne pentirai. Vorresti avere una strategia per pubblicizzarti, mostrare il tuo vero valore sul web, avere più clienti e crescere professionalmente? Tanti guru promettono di insegnare a promuoverti, ma poi non hanno un metodo adatto al settore olistico. Oppure ti danno consigli frammentati che poi non riesci ad applicare come ti fanno vedere loro. E cosa succede? Entri in un circolo di frustrazione perché non vai avanti e non vedi nessun cambiamento sostanziale. E vedi altri, magari anche meno bravi di te, che vanno avanti perché applicano quelle strategie di marketing che noi olistici non approviamo. Anni fa mi sono trovata bloccata in questa tua stessa situazione e per questo ho deciso di darti una mano. Sono Simona Vignali e da oltre 25 anni mi occupo di salute e benessere naturale. Nonostante tutto l'impegno profuso negli anni, solo quando ho applicato le giuste strategie di comunicazione, la mia attività è decollata. E ora ho più tempo da dedicare a me stessa e alla cura dei miei clienti. Devo ringraziare per questo il mio socio Armando Giorgi. Lui è un esperto di marketing digitale con più di 25 anni di esperienza e un cuore olistico. A differenza di tanti altri marketer o agenzie che non sanno come tradurre i nostri valori olistici in strategie di marketing efficaci. È dal 2021 che lavoriamo insieme e, visti i risultati, abbiamo creato Holistic Authority, un percorso dedicato ai professionisti del benessere. Holistic Authority, non dimenticarlo perché è il primo e unico percorso che unisce il marketing digitale alle discipline holistiche e permette di raggiungere grandi risultati di crescere senza mai tradire il tuo stile e i tuoi valori. Ti spiegheremo in diretta come puoi farlo anche tu nella nostra Masterclass Live lunedì 7 ottobre alle 18.30. Assicurati di partecipare a questo evento, prendi appuntamento o segnalo nella tua agenda perché potrebbe cambiare, rivoluzionare la tua vita esattamente come lo ha fatto a me e ad Armando. Iscriviti subito dal link abbinato a questo video o nei commenti qui sotto. Ti aspettiamo, ciao!